Fiamme alle prime luci dell'alba all'interno di un nightclub di Cesa nel comune di Marciano della Chiana, provincia di Arezzo. L'incendio si è sviluppato attorno alle 6 di questa mattina a dare l'allarme il custode che ha allertato immediatamente i vigili del fuoco. Sul posto sono così intervenute due squadre del comando di Arezzo con 4 mezzi e 12 uomini a cui si sono aggiunte anche una squadra del distaccamento di Cortone ed un funzionario. I pompieri hanno così domato il rogo dopo molte ore di lavoro. È ancora in corso la stima dei danni ma la zona più colpita e danneggiata dalle fiamme è quella dei magazzini nella parte posteriore della struttura, la cambusa dove vengono conservate le bevande da servire. Nel rogo è infatti andata distrutta totalmente l'entrata del magazzino, le fiamme hanno divorato la tettoia di legno che ricopre l'ingresso. Il locale al momento dello scoppio dell'incendio fortunatamente era vuoto, nessuna persona quindi è rimasta ferita o intossicata. Al lavoro ovviamente anche i carabinieri di Arezzo sono in corso i rilievi per risalire alle cause del rogo. Inquirenti al momento stanno vagliando tutte le ipotesi sull'origine dell'incendio, sia quella dell'incidente che quella del rogo doloso. Gli investigatori infine stanno cercando di ricostruire se l'incendio sia partito dall'interno e dall'esterno del locale. La struttura danneggiata infine è stata messa sotto sequestro.